amici di italiano per tutti questa lezione è a dir poco tremenda se avete fatto colazione se avete pranzato se avete cenato se avete fatto merenda questo poco importa perché questa è una lezione dedicata ai dolci e quando arriviamo in fondo questa lezione sarà molto difficile trattenere il proprio appetito la propria voglia di dolci allora parliamo in questa lezione dei dolci italiani in generale andiamo a parlare a vedere alcuni dolci che provengono nello specifico da alcune regioni da alcune zone d'italia e sono diciamo tradizionali di quelle zone però in generale vediamo quali sono i dolci italiani ce ne sono parecchi ce ne sono tanti di alcuni abbiamo già parlato in lezioni precedenti quando facevo la descrizione delle ricette italiane e infatti vi punterò quei dolci che abbiamo già discusso insieme e alcuni sono nuovi ma comunque molto noti non solo in italia ma anche all'estero quindi andiamo e partiamo subito con la prima slide sui dolci italiani i dolci italiani la cucina italiana è famosa anche per la grande varietà dei suoi dolci tradizionali torte biscotti dolci a cucchiaio da consumare freddi caldi o a temperatura ambiente si tratta solitamente di ricette a base di ingredienti semplici che hanno avuto origine in una specifica località o regione e poi si sono diffuse in tutta italia qualche volta anche fuori dall'italia si alcuni sono molto noti anche fuori dall'italia vedrete come sempre non ci è possibile ricordarli tutti ma proveremo ad elencare almeno i più conosciuti comunque sappiate che ce ne sono tanti io ho sfogliato più volte queste slide una dietro l'altra e mi sembrava sempre di aver raggiunto l'ultima in realtà non è vero non è vero perché ce ne sono parecchi già in questa lezione di dolci italiani ce ne sono molti tenetevi pronti perché qui inizia la prima slide sui dolci italiani allora alcuni sono non abbiamo messo il luogo la regione o la città di provenienza perché sono abbastanza noti e diciamo usati consumati ecco meglio dire in tutta italia quindi partiamo e poi vedrete che di volta in volta magari qualche città e qualche qualche regione c'è però partiamo subito con la crostata la crostata è una è una base di pasta frolla farina uova burro e zucchero ricoperta di marmellata e frutta a cui si sovrappongono strisce di pasta intrecciate ed eccola qua sopra la crostata si può farcire anche con la crema di cioccolato ricotta o frutta di solito la crostata alla frutta la marmellata insomma ecco quello più tradizionale poi abbiamo la torta sbrisolona poco nota sicuramente è una torta di consistenza friabile sbriciolona cioè che si sbriciola originaria di mantova a base di farina bianca farina di mais burro zucchero uova e mandorle intere è buona è buona poi abbiamo la torta caprese originaria dell'isola di cra di capri ma è nota in tutta italia è diciamo prodotta e degustata in tutta italia è nota è una torta preparata con mandorle cacao uova burro e zucchero e ricoperta di zucchero a velo poi abbiamo la torta margherita è la forse la più nota non so direi che forse quasi un po vicino alla torta della nonna quella che si chiamava la torta della nonna che la più generica che è una un dolce soffice e leggero e si prepara con albumi montati a neve fecola e succo di limone poi abbiamo lo strudel un dolce dell'alto adige è un rotolo di pasta sfoglia ripieno di mele uvetta e frutta secca buonissimo anche lo strudel la torta mimosa ed eccola qua sopra la torta mimosa ed è specifica di un certo periodo dell'anno la torta mimosa si prepara con strati di pan di spagna ricoperti da crema diplomatica che è crema pasticcera e panna montata la copertura di cubetti di pan di spagna crea l'effetto di una copertura di fiori di mimosa i fiori di mimosa sono tipici in italia forse anche all'estero della della festività del giorno della donna l'otto marzo ed è tendenzialmente diciamo una torta di quel periodo ecco poi insomma si può degustare in qualsiasi periodo dell'anno magari però più primaverile ecco e questi cubetti di pan di spagna ricreano l'effetto della mimosa proprio per il giorno della della festa della donna il castagnaccio è un dolce tipico toscano fatto con farina di castagne e zucchero e decorato con pinoli e rosmarino il tiramisù e questo è uno dei primi dolci che abbiamo già precedentemente discusso ne abbiamo già parlato e avevo fatto una lezione specifica sul tiramisù quindi vi vado a puntare qui la lezione sul tiramisù ma diciamo che è è un famoso dolce al cucchiaio preparato con biscotti savoiardi caffè e una crema di uova e mascarpone e poi avevo ovviamente descritto bene la ricetta del tiramisù è abbastanza noto quasi in tutto il mondo comunque se si va se si viene o se si va e si gira per l'europa di solito il tiramisù nelle pasticcerie o nei ristoranti un po particolari diciamo si trova la panna cotta è un dolce al cucchiaio di origini piemontesi si prepara con panna latte zucchero e colla di pesce che la colla di pesce sono delle lastrine di diciamo di colla di pesce che possono essere più naturali o meno ma che servono per come addensante quindi tengono insieme in sostanza questo questo prodotto che è la panna cotta altrimenti sarebbe un pochino più liquido più più morbido e invece ovviamente è un dolce al cucchiaio quindi si mangia come quasi come se fosse un tiramisù quasi un gelato ecco un po più morbido si può servire con frutta cioccolato o sciroppi il budino il budino è ovviamente si trova al ristorante si va a mangiare quando quando in certi ristoranti si trova lo fanno però è un po più casareccio un po più da da casa anche perché mi ricordo da piccolo vendevano proprio e anche adesso vendono le buste per fare il budino in casa quindi uno se lo può fare tranquillamente proprio un po più un po come la torta della nonna ecco quindi non è non ha bisogno di questa maestria come magari anche per dire tiramisù si fa in casa però è un po più complicato anche da parte mia che non sono un cuoco il budino è un dolce al cucchiaio fatto con latte uova zucchero e farina e con aggiunta di cacao in polvere quindi vendevano e vendono le bustine di cacao per fare il budino vaniglia o altri aromi infatti c'è anche il budino alla vaniglia c'è il budino giallo che non è ovviamente al cacao ma il colore in questo caso cambierebbe poi abbiamo il bonet il bonet è un dolce al cucchiaio e lo vedete qui sopra piemontese che si prepara con amaretti uova latte zucchero rum e cacao si serve ricoperto di zucchero caramellato buono il monte bianco è un'altra ricetta che abbiamo già visto quindi ve la vado a puntare qui la ricetta del monte bianco così avete la descrizione completa ma semplicemente per sintetizzare è un dolce al cucchiaio di castagne cotte nel latte con zucchero e vaniglia schiacciate e ricoperte con panna montata il monte bianco se lo sapete fare bene ahimè fa diciamo acquolina cioè fa venire voglia di addentarlo in questo momento la cassata è il famoso e colorato dolce siciliano la cassata siciliana è un'istituzione per la sicilia c'è poco da fare questo ne sono sicuro per tutti i siciliani preparato con pan di spagna crema di ricotta pasta di mandorle e frutta candita dovete andare in sicilia non potete mangiare la cassata milano non potete dovete andare lì ci sono gli esperti ci sono gli artigiani la sanno fare sono lì solo lì quindi se volete dall'estero venite andate in sicilia e fatevi fare una buona cassata la zuppa inglese è un dolce tipico dell'italia centrale anche la zuppa inglese fantastica a base di strati di pan di spagna imbevuti di liquore al kermes che è un liquore rosso rossastro e ricoperti da strati di crema pasticcera e crema al cacao zuppa inglese ahimè la meringata anche questa è un dolce freddo a base di meringhe che sono fatte con gli albumi e lo zucchero a velo l'albume dell'uovo quindi la parte chiara dell'uovo non gialla e panna montata la meringata e le meringhe di per sé da sole anche ahimè il gelato il gelato è un altro dolce chiamiamolo così ecco non esiste proprio il gelato ce ne sono una quantità infinita di tipi di gelati abbiamo dedicato una lezione specifica sul gelato su come si realizza come è stato inventato il gelato ve la vado a puntare come sempre qui quindi vedete tutti i tipi di gelati che ci sono in italia li abbiamo descritti tutti però per abbreviare sintetizzare diciamo che è il più conosciuto dolce freddo di origine italiana si prepara con latte panna zucchero e altri ingredienti e si mangia su cono o in coppa poi abbiamo il semi freddo che è simile al gelato è un dolce freddo a base di panna albumi montati a neve zucchero con vari gusti ecco mentre ad esempio apro solo una parentesi poi la chiudo mentre il gelato è un è un dolce che si gusta nel pomeriggio diciamo è meno da ristorante anche se c'è il dolce da ristorante diciamo è un po più il semi freddo è un po più il tiramisù è il tartufo è un po più elegante il gelato è un po più diciamo sportivo come come dolce però ogni tanto magari il gelato affogato cioè ne abbiamo parlato anche nel gelato di questo poi abbiamo il tartufo ecco ne è un altro è tipico della calabria è un dolce di forma rotonda a base di gelato alla nocciola ripieno di cioccolato fondente e ricoperto di cacao amaro cacao amaro è buonissimo in polvere e zucchero ovviamente buonissimo lo dico io e poi i gusti sono tutti diversi di ognuno di noi e questo è ovvio i cannoli siciliani abbiamo fatto una lezione sui cannoli siciliani sto sostanzialmente ripetendo quasi un po tutte le lezioni fatte elencando neanche altri di dolce ma vi vado puntare qui la lezione sui cannoli sono costituiti da una cialda arrotolata e fritta che viene riempita con un morbido ripieno a base di ricotta di pecora e zucchero arricchito con cioccolato e frutta candita i maritozzi con la panna con la panna originari della cucina romana sono dei morbidi panini dolci riempiti di panna montata sono vabbè sono anche questi fantastici le sfogliatelle dolce tradizionali della cucina napoletana bisogna dare a napoli in questo caso qua per provare le sfogliatelle quelle buone sono in voltini di pasta sfoglia con un ripieno di ricotta semolino zucchero e vaniglia il babà il babà anche questo di origine di napoli per mangiare un buon babà bisogna andare a napoli è un dolce a base di pasta molto soffice che viene imbevuta di rum e zucchero si può farcire con panna montata e frutta il babà anche questo a napoli un'istituzione cioè esiste il babà e basta il bombolone mi ricorda quando ero piccolo che andavo al mare al periodo dei bomboloni che si mangiavano alla sera freschi e avevano a produrli per il giorno dopo il bombolone è un dolce rotondo di pasta soffice che viene fritto e farcito di crema pasticcera buonissima è ricoperto di zucchero buonissimo il bombolone è una bomba di calorie ma è buonissimo le frittelle sono palline rotonde di pasta che vengono fatte friggere all'impasto si possono aggiungere pezzetti di mele e uvetta e altri ingredienti si servono ricoperte di zucchero le seadas abbiamo parlato delle seadas c'è una lezione dedicata alle seadas è un dolce tipico della sardegna sono involti di pasta ripie pasta sfoglia ripiena di formaggio pecorino che vengono fritti e poi serviti ricoperti di miele cambio slide le chiacchiere abbiamo parlato anche delle chiacchiere c'è la ricetta completa in una lezione sono il dolce tipico di carnevale conosciute con nomi diversi nelle varie regioni italiane come bugie cenci frappe eccetera sono strisce di pasta arricchite di liquore che vengono fritte e servite con zucchero a velo anche le chiacchiere se fatte bene sono buonissime il panettone anche qui e questo il panettone è un'istituzione italiana è tipico di natale solo natale ecco direi essenzialmente se ci sono delle rimanenze si va verso gennaio ma poi il panettone si mangia di solito natale in italia non si trovano in altri periodi dell'anno è tipico di natale è un dolce a forma di cupola tondo quindi a cupola di pasta lievitata arricchita di canditi e uvetta e nello stesso periodo natalizio abbiamo il pandoro altro tipico dolce natalizio originario di verona è un dolce di pasta soffice e dorata profumata di vaniglia a forma di stella e ricoperto di zucchero a velo il pandoro se è veramente buono se quello di marca se quello artigianale è straordinario assolutamente il torrone è italiano è un dolce di natale anche se devo dire che ogni tanto mentre il panettone il pandoro non si trovano fuori dal periodo natalizio il torrone ogni tanto è un po più festivo ecco la festa di paese il torrone si trova anche oggi e se si va in certi supermercati il torrone si trova il panettone il pandorno è un torrone però è dedicato espressamente solitamente di più nel periodo al periodo natalizio è un dolce di natale di consistenza dura e friabile a base di albume d'uovo miele zucchero e mandorle o nocciole spesso ricoperto da due strati di ostia che è pane non lievitato fatto opposta per ovviamente spezzarlo in modi giusti e tenerlo anche in modo in modo che non sia appiccicoso il croccante è un altro dolce natalizio composto da mandorle o nocciole avvolte da zucchero caramellato anche il croccante è buono io non saprei quale scegliere gli struffoli eccoli qua sono il tipico dolce natalizio della campagna si tratta di piccole sfere di pasta fritte coperte di miele e guarnite con canditi e confettini la colomba è il dolce tradizionale di pasqua e anche questo si vede solo a pasqua e non in altri periodi dell'anno a forma di colomba originario di milano è di pasta soffice farcita con arancia candita e coperta da una glassa di zucchero a mandorle la pastiera la pastiera è un altro tipico dolce pasquale di napoli la pastiera napoletana ok si prepara con una base di pasta frolla è un ripieno di ricotta zucchero uova grano bollito nel latte e vari aromi la pastiera napoletana anche questo andate a napoli perché non la trovate come la fanno lì i baci di dama originari del piemonte sono dolcetti formati da due biscotti tondi di pasta alle nocciole unite da uno strato di cioccolato fondente se andate a cercare in piemonte i baci di dama quelli fatti artigianali uno tira l'altro come si dice non riuscirete più a fermarvi per mangerete tutta la scatola i crumiri sono originari del piemonte nello specifico di casale monferrato sono biscotti friabili hanno fatto successo in tutto il mondo i crumiri anche se poi magari sono poco conosciuti però sono quelli proprio originali che sono stati prodotti lì sono sono biscotti friabili di pasta frolla dalla tipica forma a baffo i crumiri fantastici i savoiardi i savoiardi si usano poi nel tiramisù ecco poi c'è scritto di origine piemontese sono biscotti leggeri e friabili di forma oblunga fatti con farina uova uova e zucchero sono la base del tiramisù è anche la base di magari altri dolci che non abbiamo presentato qui nella lista sono buoni anche da mangiare da soli e quindi il diciamo l'ingrediente per un dolce è buono anche da solo se ovviamente fatto bene le lingue di gatto biscottini ovali e piatti preparati con farina burro albume d'uovo e zucchero a velo i canestrelli che sono questi piccoli canestri con il buchino perché sembrano dei canestri dei cestini di origine ligure sono biscotti di pasta frolla dalla tipica forma fiore con un foro in mezzo ricoperti di zucchero a velo io non sono mai stato nella mia vita forse ultimamente poi crescendo non so quando ero piccolo non ero mai stato goloso di dolci di cioccolati di caramelle di cose particolari però quando andavo dalla nonna i canestrelli erano buoni uno dopo l'altro si mangiavano nel tè i canestrelli mi attiravano particolarmente non so perché bambino un po particolare si vede i cantucci i dolcetti tipici della toscana cantucci e vinsanto sono biscotti duri duri e duri alle mandorle ottenuti da un lungo filone tagliato a fette infatti vedete che si vedono le fette tagliate si consumano insieme al vino dolce detto vinsanto cantucci e vinsanto in toscana sono una qualcosa di eccezionale bisogna ovviamente andare a assaggiare sui territori poi sono buoni un po ovunque però bisogna andare effettivamente lì gli amaretti sono dolcetti a base di mandorle zucchero anche gli amaretti sono buoni di cui esistono due versioni una dura e croccante che è un po più piccola e l'altra di forma più grande e di consistenza morbida ecco ogni lustro cambia gusto quindi ogni cinque anni cambiamo i nostri gusti e le nostre le nostre abitudini anche quello che proprio piace al gusto nostro gusto quando ero piccolo gli amaretti li odiavo perché erano troppo mari oggi mi piacciono gli amaretti a qualsiasi gusto mi sono iniziati a piacere già da una decina da quindicina di anni fa e devo dire gli amaretti sono buoni se provate sia quelli croccanti ma soprattutto quelli morbidi quelli un po più grandi sono veramente buoni il marzapane tipico della cucina siciliana è un impasto di farina di mandorle zucchero e albume d'uovo che si usa per dare forma a piccoli dolcetti colorati a forma di frutta e in molte o in molte altre preparazioni eccolo qui il marzapane i cannoncini alla crema sono dei cilindri vuoti questa è pasticceria di altissimo livello cannoncine la crema in un pacchetto di pasta è qualcosa che uno dopo pranzo dopo il caffè è da svenimento sono dei cilindri vuoti di pasta sfoglia ripieni di crema pasticcera normalmente hanno la crema pasticcera perché è diciamo lo standard poi ci sono anche quali ripieni di cioccolato o alla nocciola il salame del re o salame dolce in alcune regioni si chiama salame dolce è tipico dell'umbria si prepara con uno stato di pasta soffice pasta biscotto imbevuta di al kermes questo liquore rosso ricoperta di cioccolato e poi arrotolata su se stessa il salame di cioccolato è un dolce che non richiede cottura forse uno degli pochi si prepara con biscotti secchi sbriciolati burro cacao in polvere cioccolato fondente zucchero e i boeri che sono dei cioccolatini ma un po particolari perché sono cioccolatini fondenti ripieni di una ciliegia sotto spirito quindi con alcol e liquore beh mi sembra che sia l'ultima eccola quasi infatti è l'ultima allora una lunga lista di dolci italiani che ahimè mi fanno un po girare la testa perché come dico come ho detto dall'inizio se sia che abbiate fatto colazione che abbiate pranzato che abbiate cenato o fatto merenda portano una voglia di qualcosa non non di tanto però assaggiare qualcosa viene proprio proprio voglia beh questo è un lungo elenco e con una breve descrizione per ognuno ce ne sarebbero stati altri ci sono dei dei dolci specifici di nicchia del territorio che non si sono espansi non si sono diffusi in tutta italia e le abbiamo ovviamente evitati ci dispiace però ovviamente questa lezione è già abbastanza corposa così e dispiace anche perché ci sono delle realtà artigianali locali con dei cuochi degli chef di preparatori dei pasticceri fantastici e sembra un po riduttivo dover descrivere in quattro parole ognuno di questi però ovviamente la lezione non può durare sette ore e non sarei neanche in grado io di di spiegarvi questi dolci quindi abbiamo cercato di sintetizzare come facciamo in tutte le lezioni il più possibile i dolci che sono più diffusi in italia che possono e alcuni di questi sono anche diffusi ovviamente all'estero riconosciuti spero che la lezione vi sia piaciuta come sempre vi chiedo un like e un seguimi sul canale attivate le notifiche condividete il canale perché ci sono tante persone che si iscrivono ci dicono come ho già detto la volta precedente a non sapevo del tuo canale eccetera eccetera quindi se avete amici se avete qualcuno che è interessato anche solo ai dolci e non c'è bisogno di studiare la grammatica anche solo ai dolci italiani fategli vedere i nostri dolci il nostro elenco sono sicuro ma sono sicuro non al 100 ma al 200 per cento che nei vostri paesi nei vostri stati dove mi ascoltate così lontani dall'italia ci saranno dei dolci altrettanto eccezionali altrettanto fantastici che io non conosco e vorrei quasi quasi venire e assaggiare però ovviamente la vita è solo una e bisogna riempirla di quello che si riesce a fare e non di tanto altro bene allora grazie per la vostra attenzione ci sono 285 lezioni prima di questa come dico sempre i social itapertutti.blogspot.com e ho detto tutto e ci vediamo nella prossima lezione di italiano per tutti ciao ragazzi ciao